Ale, cosa stai mangiando? Oggi è l'ultimo giorno delle mini vacanze, è stato bellissimo. Poi alle fine di ieri sera è salito un vento assurdo, quindi siamo rimasti giù in piscina al ristorante a cenare e poi siamo stati lì a far due chiacchiere e verso le 11, un quarto, unici e mezza, siamo tornati su a dormire perché eravamo stanchissimi. Il programma di oggi è assolutamente non fu nulla, fare nulla in piscina e poi verso sera rientreremo a casa. Quindi poi vi porterò, ovviamente vi porterò, perché vi prendo tutte, vi porterò giù in piscina a vedere Ale che adesso inizia ad avere un po' più di confidenza e vado a fare collezione. Ciao amore! Ciao amore mio! Ciao amore! Ciao amore! la barca la barca la barca la barca la barca la barca no ma si può con una protezione 50 ridursi in questo modo no non si può siamo appena rientrati a casa cotti ma sono stati dei giorni è stato un weekend mamma mia è stato un weekend bellissimo mi fa malissimo e niente spero di aver registrato qualcosa perché la telecamera me la sono quasi dimenticata e ci vediamo magari la settimana prossima visto che andiamo via anche la settimana prossima alla fine di settimana ciao ciao